bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo veramente un sacco di novità per parlare del futuro di fortnite e di tutto quello che è successo con questo misterioso aggiornamento arrivato oramai circa 20 ore fa insomma quello di ieri pomeriggio parleremo anche di quello che è successo a mixer di quello che troveremo in game e di tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui video news e allora andiamo direttamente al primo argomento di oggi e voglio chiudere questo cerchio di video dove vi ho parlato della flare gun due giorni fa abbiamo visto le foto l'altro ieri o ieri non mi ricordo abbiamo visto tutte le statistiche abbiamo ascoltato i suoni abbiamo visto le immagini beh ragazzi oggi finalmente abbiamo il primo spezzone della pistola come si presenterà in game come vedete non è molto diversa dalle immagini che vi avevo mostrato purtroppo non la possiamo vedere sparare perché ancora in questo video non è presente appunto questa funzionalità davvero molto carina si impugna come una pistola la parte davanti arancione la pistola totalmente grigia devo dire che è veramente molto gagliarda da vedere e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché c'è una notizia che avrete sicuramente visto nella sezione in alto a destra quella delle news nuovo concerto nel party royal torna ragazzi chi avevamo già visto ovvero sia diplo insieme a due guest star noah cyrus e young tag il problema è che questo concerto verrà fatto venerdì alle 3 del mattino quindi probabilmente sarà poi ripetuto durante il corso della giornata o almeno così è stato con l'ultimo concerto però se volete vederlo proprio alla prima come si dice dovete star svegli fino alle 3 del mattino e godervelo in anteprima assoluta la cosa invece interessante è che per festeggiare l'arrivo di questo nuovo concerto e non sarà l'unica cosa presente nel party royal ma se avremo tempo ve lo dico dopo sarà il ritorno di quattro skin davvero molto apprezzate nella community ragazzi torna morta fiamma io adoro morta fiamma come skin per chi non se lo ricordasse è uscito la prima volta nella season 6 del primo capitolo di fortnite ed è stata la prima skin reattiva al gioco praticamente morta fiamma più vai avanti e sopravvivi agli avversari durante il battle royal più ha delle fiamme proprio che diventano di un colore verde e violaceo e cambia anche tutta la sua colorazione della pelle arriveranno poi anche gli altri tre cowboy quindi un'occasione davvero unica per prendere delle skin che molto probabilmente usciranno solo in rare occasioni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa è una notizia oramai di un giorno fa ma ieri non ve ne ho parlato mixer chiude ragazzi questo è un tweet ufficiale direttamente dalla pagina di mixer che dice mixer partners streamers and community oggi dobbiamo darvi una grande notizia abbiamo deciso di chiudere il nostro servizio di mixer e ci siamo ufficialmente aggregati con facebook gaming quindi mixer diventa parte integrante di facebook gaming ovviamente la cosa che più ci viene in mente e quindi ninja che cavolo fa anche perché attenzione prima arriva un messaggio direttamente da uno dei capoccioni di mixer che è richard lewis e dice vogliamo semplicemente tranquillizzare tutta la community che nonostante noi abbiamo chiuso il servizio di streaming mixer ninja shroud e shroud hanno ottenuto il loro compenso signori ninja si è preso i milioni shroud si è preso i milioni con due anni di anticipo quindi li hanno liquidati e adesso sono totalmente liberi ovviamente arriva un tweet da parte di ninja che dice io amo la mia community e quello che abbiamo costruito insieme su mixer ho preso delle decisioni che adesso mi porteranno a pensarci su sul mio futuro e volete sapere che decisioni ha preso ninja ve lo dice questo signore ragazzi facebook ha offerto sia a lui che a shroud il doppio di quanto gli ha offerto mixer per rimanere a streamare nelle loro piattaforme signori né ninja né shroud hanno accettato questo vuol dire che tremati più fuggite sciocchi lo rivedremo molto probabilmente su twitch anche perché non ce lo vedo un ninja su youtube sinceramente e dove vuoi streamare o se vuoi andare avanti a streamare o streaming su twitch o streaming su youtube diciamo che con la chiusura di mixer che poteva essere proprio l'ultimo baluardo dello streaming mondiale adesso diciamo che di concorrenti non ce ne sono e molto probabilmente per un bel po di anni non ce ne saranno più andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché qua parlo con tutti i fan di battle breakers chissà che cos'è battle greater battle breakers è il gioco per mobile di epic games perché ve ne parlo e perché è importante questa immagine perché vi ricordo che se scaricate battle breakers e associate il vostro account di epic games livellando nel gioco otterrete due skin ragazzi per salva al mondo curo non mi ricordo come si chiama e rasor la ragazza l'immagine che vi ho fatto vedere prima questa secondo me essendo un'immagine ufficiale che arriva sul tweet di battle breakers io la vedo quasi come un possibile deltaplano magari è una mia supposizione però si parlava qualche mese fa che battle breakers avesse rimesso altre altri premi per giocare al loro gioco che poi andavano sul profilo di fortnite quindi staremo a vedere ci si saranno informazioni vi aggiornerò probabilmente potrebbe arrivare un nuovo premio una nuova ricompensa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva una mail a tutti i creator e molto velocemente ci dico una cosa una cosa molto curiosa la settimana prossima arriverà la patch 13.20 dove cavolo è la 13.10 qui abbiamo ragazzi due ipotesi ipotesi numero uno la 13.10 arriva questa settimana se ieri sera non è arrivata nessuna notizia in game e alle ore 21 circa non ce n'erano o arriva domani o non ne ho assolutamente idea numero due la lot fix la giornal roba che abbiamo scaricato ieri è in realtà la 13.10 e non ci hanno detto niente sinceramente non so cosa dirvi ma la cosa ancora più interessante è che nella sezione nuovi festeggiamenti su party royale per questa settimana abbiamo in programma un nuovo spettacolo in diretta e una nuova serata cinema nuova serata cinema avevamo già parlato di questa cosa e della possibilità che alcuni film venissero trasmessi in streaming nello schermo del party royale non sappiamo purtroppo nulla di questa serata cinema ma tanta tanta roba ovviamente rimanete connessi anche sul mio profilo di instagram perché io pubblico pure lì magari delle notizie che non riesco a inserire durante la giornata nel video news e siamo quasi alla fine ma parliamo di un altro argomento ragazzi perché voglio farvi vedere un video incredibile voi avete ovviamente capito questo è il furgone di reboot ragazzi c'è un modo per rebuttare i compagni di squadra nei furgoni sott'acqua guardate questo genio che cavolo fa guardatelo un pochettino lui ha costruito delle scale che formano una piramide con la barca se ne va proprio easy sotto ha in mano la scheda del compagno non appena riesce ad andare sotto esce dalla barca se ne va fresco come una rosa al furgone di reboot sott'acqua totalmente nella tempesta e senza che nessuno gli dà fastidio va a rebuttare il suo compagno di squadra è una mossa direi semplicemente geniale che potete tenere in considerazione guardano lì il compagno che esce prepotentemente dall'acqua è una mossa che potete tenere in considerazione e che sicuramente potrà essere utilizzata per tirare su i vostri compagni di squadra magari nella prima tempesta insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news vi ricordo di non dimenticare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao